Le regioni avranno più risorse e più poteri con l'autonomia per gestire servizi essenziali per i cittadini, a partire naturalmente dalla sanità. Dobbiamo pensare che ogni anno 200.000 cittadini raggiungono la Lombardia da altre regioni per sottoporsi a interventi chirurgici e quindi dobbiamo garantire a tutti una sanità di assoluta qualità. Le regioni del Sud vanno sburocratizzate per permettere di procedere con più velocità, anche per prendere in considerazione e analizzare tutte le richieste provenienti dai cittadini. Un obiettivo che però può essere raggiunto attraverso una ferma lotta alla burocrazia.